Ciao ragazze, sono tornata con un altro video e questo video sarà il What's on my bag è già tre volte che faccio questa tipologia di video perché mi diverte tantissimo e quindi io direi di iniziare subito allora, la borsa che sto utilizzando in questo periodo è questa qua che ora ve la mostro questa qua la Prada ovviamente è taroccata e mi è stata regalata dal mio amoroso quando siamo stati a Bologna allora, vi faccio vedere com'è all'esterno è una classica borsa ha una classica tracolla e la potete portare anche a braccetto così ha due cerniere queste qua allora, nella prima cerniera è fatta in questa maniera allora, e qui tengo solitamente il mio telefono sì, sono un telefono dipendente questa qui che è una cover meravigliosa poi tengo in quest'altra parte una crema per mani questa qua, della bottega verde e poi tengo il mio bastone per i selfie con il suo telecomandino questo qua verde poi tengo vediamo un accendino sì no, è un fumo è del mio amoroso ok, tra l'altro vedete finito però non importa e quindi il primo scomparto è finito qua invece nella seconda cerniera c'è molta più roba nel senso è fatta così sì, sembra uno zaino praticamente e ho il mio kit di emergenza dove c'è forbicine pinzette tagliaunghie di tutto e questo me lo porto sempre 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 dietro poi ho la mia batteria portatile senza la quale io potrei morire il problema è che il mio telefono si scarica molto facilmente cioè dopo due ore è già al 49% anche se lo lascio caricare tutta la notte poi qui ho una lima nel caso mi si rompesse un'unghia oppure ho da sistemare un'unghia ce l'ho a portata di mano una penna questa della Dreambox questa qua il mio rossetto che mi è stato regalato per il compleanno questo qua il Rouge Love di Lacombe questo qua che io lo adoro e poi ho l'inseparabile amico mio ovvero il portafoglio ovviamente anche questo rosa e è praticamente fatto in questa maniera il mio portafoglio qui ho il libretto scolastico scontrini di ogni genere praticamente e qui ho i miei stucci allora quindi non c'è più niente all'interno della mia bozza quindi è svuotata al 100% ora chiudo un attimo quindi vi lascio giù nell'info box tutti i miei dati dove potete trovarmi sui social dateci un'occhiata perché diciamo su Instagram passo maggior tempo possibile quindi ogni giorno carico una foto se volete potete lasciare benissimo un video risposta del video What's my bag se avete proposto di video sono più più che felice di accontentare le vostre richieste io vi lascio un grandissimo bacio e iscrivetevi ciao ragazze ciao 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 Grazie a tutti